Perché è importante il Neolitico? Quale invenzione è stata fatta nel Neolitico che ha cambiato radicalmente il modo di vivere degli uomini? Gli uomini nel Neolitico inventano l'agricoltura. L'agricoltura determina importanti cambiamenti nelle vita degli uomini. Gli uomini possono scegliere se diventare sedentari. Prima nel Paleolitico, età della pietra antica, l'uomo era solo nomade, cacciatore e raccoglitore. Nel Neolitico, l'età della pietra nuova, l'uomo può scegliere di diventare sedentario grazie all'invenzione dell'agricoltura. Questo permette gli insedimenti umani che pian piano si allargano e diventano le prime città. A questo momento, la storia dell'uomo cambierà radicalmente. Nascerà la scrittura e si apriano le porte per un mondo nuovo.